Ormai siete fissati con Gartic Phone, si ragazzi, è bellissimo Vi spiego come funziona il gioco In pratica Non so spiegarlo Vuoi che provo a spiegarlo io? No, no, no Adesso ci provo io, praticamente Ognuno di noi deve scrivere una frase Che può essere tipo, non so Taylor che dà un fiore al creeper Gli altri giocatori devono rappresentare la frase con un disegno Adesso vediamo alla fine cos'è successo Quindi dalla frase in cui siamo partiti C'è la mia è Rinnegan che picchia Taylor Abbastanza semplice Rinegan Taylor Ok Rinnegan che picchia giustamente Taylor Bravo L'attore pendente è a 45 gradi Ma perché hai scritto quella roba lì tu? Guardate io Non ho capito perché hai messo 90 gradi te Ma scusa Ho scritto 90 gradi Per farti capire che l'attore è a 45 Scrivi 45? Tu scrivi torre Tu hai scritto solo 90 gradi Ma secondo te quella lì è una torre Ha un cannolo siciliano Quello è un cannolo siciliano? Perfetto Ci siamo tutti C'è Taylor Rinnegan Villico Freus Saluto Nadia Saluto Antonio Allora Iniziamo ragazzi È il momento È il momento È il momento della verità Taylor Prima io La scena del 15 più 18 Vediamo un po' Ma cos'è sta roba? È la calcolatrice che fa 15 più 18 Ma no Ma no Ma no Ma no Coglione 15 più 18 quanto fa? Bravo Rinnegan È disegnato benissimo questo È bellissimo questo 15 più 18 15 più 18 quanto fa? Gattina Coglione Coglione È un tizzo che prende È per quello È per quello che a me è arrivato il mio Super Saiyan Posta Scusate guardate il mio Super Saiyan Ciccione Mosca robot che fattura Ma cosa Come fa uno a capire sta roba? Cos'è sta roba? Cazzo? È una mosca robot? Mosca meccanica che non trova l'uscita È qua Tutta la mia arte Mosca meccanica Mosca meccanica che non trova l'uscita Mosca confusa che ha giusto una porta Lavoro in corso Una mosca meccanica Ok ci sta La mosca che è più grande della porta Scusate che arrivo io Quello è il problema Arnesi Che cazzo è sta roba? Attaccare Marte Cioè dai Come faccio a capire sto disegno raga? Cos'è sta roba? Terra che spara a meteoriti Io ho scritto Ok vediamo Terra che spara al meteorito Madonna mia Sembra una fetta di Emmental Questa Più con meteorite Scrive Pikachu che sputa sentenze Come lo disegni? Spooch Chi è che ha disegnato sta merda? Storpio Storpio che sputa Lo sapevo che Rita Che diceva Storpio Bello sta Ho cercato di fargli un po' di gobo Ma sembrava che stesse Storpio Guardate il mio Pikachu Guardate il mio Pikachu Bam È lui Pikachu che pippa Palle rosse e fulmini È una Pokéball È venuto top È venuto top Pikachu che si accende un sigaro sopra un incendio È Pikachu Sopra un incendio Che si accende un sigaro Super Mario sotto steroidi Scusa Perché? Perché? Perché è una striscia Sapete benissimo che gli steroidi provocano fiamme anali Guardate il mio Ma perché lo fai sempre così Mario? Ma scusa io avevo disegnato la cacarella Super Mario Basta Seola Sì Dio mio Adesso ho capito Seola ti adoro Perché a me è arrivata questa frase qui Super Mario è un bruciato strabico Che bello Bello questo disegno Bello quel disegno Bello Guardate che bello che l'ho fatto ragazzi Ti aspetto forza giù e su È Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sì Grande Alex Ronaldo ti aspetto Ti aspetto Io no Adesso Adesso arrivo io Bravo No no aspetta aspetta Adesso capisci che io non sono un cacchio di sta roba qua Sono a Juventina No No Dio mio Ma come vi ho detto che non so niente di calcio? Sono a Juventina che aspetta E quell'altro disegna la maglia dell'Inter Interista alle 21.03 circa Alle 21.03 circa Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Sta roba Io capisco il non azzecare la frase Siù Ti aspetto Posso capire tutto Ma cazzo siamo passati dalla Juve che è bianco e nero A passare a un Interista A caso alle 21.03 Cioè non c'entra niente Cimici che entrano nella bocca di Taylor al mattino Ragni entrano nella bocca di Taylor mentre dorme Scusa I ragni sono verdi Le cimici Taylor uccidono i polmoni Perfetto Bello Bello Pura che arrivi lì il mio turno Polmoni puzza Ma perché? Scusatemi Pussa che entra nei polmoni Quella è la puzza? Allora quelle linee verdi sono la puzza? Ok Iniziamo Allora il primo è il mio Oltre all'altro Il mio è la mia Sottomarino volante Sottomarino Un sottomarino volante Sottomarino volante Sopra l'oceano Bravo 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 Stesso disegno Praticamente stesso disegno Pesce siluro Ma dai ma perché? Guarda quell'ala Missile volante Missile volante Grigio con sottofondo Blu e tanto di ventil Perché il ventilatore sta sollevando un razzo? È un razzo E soprattutto Sparandosi il fondo Perché il tuo razzo l'ha toppato? Rinnegan mangia nell'albero Ma si sveglia Correndo sulla sedia Come hai fatto a disegnare sta roba? Rinnegan è un grande No no ma come hai fatto a pensare una roba del genere e a scriverla? Un occhio che sogna di rubare delle pesche? Ma è vero sembra un occhio Giusto Lui ha rappresentato il Rinnegan Lui ha rappresentato il Rinnegan astratto Un occhio che sogna delle pesche Sognare albicocca ad occhi aperti Albicocca Che poesia Persona che sogna albicocca Infatti guarda Crack TV all'inizio era sveglio Poi si è dromentato Sognato albicocca Sogni perversi sulle zucche Cioè sono diventato albicocca Pesche, zucche, cacchi Cos'è sta roba? Cos'è? Cangura rosa saltellata Non era difficile da disegnare questa eh Canguro Boing 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 Io all'inizio avevo scritto Canguro rosa che saltella tipo Ma perché hai scritto di gomba? Perché è di gomma Cosa cazzo mi fa scrivere? Perché ho pensato Ma perché la devi fare rosa? Magari era di gomme Quindi l'ha disegnato rosa Sei un cazzo di ingegnere Pensa facile Guarda io Ma questo non è un canguro Quello è un canguro Non importa Ho detto Al marsupio Una corta Una coda Forse è un canguro Il canguro salta sulle gomma Bravo Ho avuto un attacco epilettico Cos'è? Creatura Di satana Adesso ho capito Il disegno Oddio 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 Che cazzo è sta cosa? Abbiamo affrontato un uomo elettrico Cazzo è vero Perdona potevamo seguire via Io pensavo di aver disegnato un canguro brutto Ma almeno si è capito Che era Un canguro Ma quello di 69 Provele ma Comunque il canguro rosso Che è stato un mal rosso Lei lo vuoi sapere la cosa divertente Vai a vedere Vai a vedere Sopra il disegno di Matteo Scusatemi Tra un pinguino Una scimmia Ho vedo E un ciubacca No allora È la faccia di una papera Papera Il canguro è un coniglio Non è una papera Ho vedo Comero Non so perché Indossa le pinne di un sub Non so dove le ha pernese E ha la cosa di una scimmia E l'uomo orso maiale Vi avrà fatto Un uomo Un uomo elettrico Passa quella voce Ah È Riccardo il grande Persona che sussurra Ad una gallina Sparla e coccola Rosita Bello Rosita Che sguardo perverso Oh Rosita Che cazzo di gallina è? Rinegan butta il cappello Di Taylor Sull'armadio Rinegan che toglie il cappello A Taylor Boh Quello ho capito L'ho interpretato Dai È di nuovo Basta Come l'ho Eh se mi capito Rinegan lui lo direi Così punto Mi basta Vedi che si è rinegan per me Ipno Ogni L'uomo Il cappello a pelo Oh mio Ipno Ipno Che bello effetto Sulla terra oculare Ma cos'è? Siamo gridando una pianta Scusate Scusate Mi fa la te rinegan Rinegan Ilimoni Signora Signora L'hai fatto Perfetto L'hai fatto bene Anche me lo ricordavo Ilimoni Signora Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Sì Abbiamo vinto Sì Possiamo chiudere la pasta Cavalli con le gambe Bruttissimo Un cavallo felice A cui stanno staccando le zampe Punto Sangue Sangue Basta Questo è un cavallo Questo è un cavallo Questo è un cavallo Dinosauro con zampa rotta Ecco Bello Un tenero dinosauro piange Perché si taglia una zampa Piedino ferito che piange dalla mamma Brontosauro Piedino che piange per il piedino Quello è un brontosauro Quello è un brontosauro Guarda